Rita Rusic, buonasera e benvenuta. Buonasera. Che belva si sente? Sono un animale notturno, quello sicuro. Notturno? Notturno, sì. Un pipistrello. No, è orrendo il pipistrello, ci ha portato pure il covid, per carità. Allora no, sono una pantera nera nel lavoro e sono un gatto. Paolo D'Agostini, un critico cinematografico, di lei ha detto all'aria tosta, la statura vertiginosa e una femminilità un po' alla Crudelia de Mon, ma ti sorprende che sia anche spiritosa? È una Crudelia de Mon spiritosa lei? No, non sono proprio Crudelia de Mon. Appaio come una Crudelia de Mon. C'è quest'aria così, questa freddezza un po' dell'est che mi accompagna, però secondo me sono anche molto meridionale, cioè io mi sento un po' terruna. In cosa? In tutto, sono molto passionale, sono molto così, soffro, piango, amo, rido. Lei ha detto che la sofferenza le ha dato la forza per mordere la vita, effettivamente lei ha trascorso un'infanzia complicata, profuga con la sua famiglia dalla Jugoslavia, ha vissuto in un campo profughi che era un ex lager per tre anni circondato dal filo spinato. Ecco, di quegli anni complicati qual è il ricordo che ancora la ferisce e di cui non riesce a liberarsi? Riesco a togliere i pensieri cattivi e riesco a ricordare le cose belle. E qual è l'impressione forte? Quando lei pensa a quegli anni, a cosa pensa? Penso a le cose belle, penso a quando arrivavano i pacchi di Natale dal Presidente della Repubblica, erano delle buste dell'immondizia, quelle nere, però dentro c'erano dei regali bellissimi. Per me l'importante era stare con i miei genitori e mia sorella, poi tutto il resto andava bene. E' solo che poi insomma con i suoi genitori c'è stata poco perché dopo il campo profughi è passata in un collegio che era un po' un istituto militare nel senso che era molto duro e lei ha detto quando le suore ci dicevano di pentirci delle nostre colpe, io che non sentivo di averne, mi mettevo i sassi dentro le scarpe per patire una sofferenza fisica da offrire alla Madonna. Sì, quelli erano il mese di maggio, no? Si devono fare i sacrifici e si fanno i fioretti. Quindi cercavo il dolore, quindi mi mettevo, che è una cosa orribile per i bambini, che un bambino non dovrebbe mai soffrire, no? E non dovrebbe avere mai sensi di colpa. No, però dico la verità che è stato un collegio dove io sono stata otto anni e non hanno mai, mai alzato le mani su di noi. Che dovrebbe essere la norma invece di certezze. Sì, dovrebbe essere la norma, però quello che si sente poi alla fine ti fa pensare che sono stata fortunata, nella sfortuna...